In questo momento particolare credo che parlare di intelligenza significa guardare al futuro, guardare una possibilità di ripresa e significa intercettare le energie migliori per recuperare il tessuto che rischia di essere risucchiato da questa crisi pandemica ed economica. Sono tanti gli aspetti che ci possono coinvolgere su Recovery Fund, dipende come il governo intende coinvolgere le regioni. Noi abbiamo una visione, certamente in questa visione debbono essere protagonisti i territori e coloro che nei territori possono portare un valore aggiunto. La regione deve riuscirci per forza perché in un momento come quello che stiamo vivendo non sono messi né campanilismi né egoismi. Abbiamo una grande responsabilità ma anche una grande opportunità. Con questa iniziativa di oggi si apre il lavoro di confronto con tutti gli stakeholder per individuare quelle che possono essere potenzialmente le aree migliori dove fare trasferimento tecnologico e ricerca. Senza la ricerca e il trasferimento tecnologico le nostre imprese non riuscirebbero a crescere e ad essere competitive. Abbiamo una grande opportunità di finanziamento che è quello che arriverà con il POR ma anche con il Recovery Fund per cui è obbligatorio prima fare un'analisi ma questa analisi condividela con tutti i soggetti di mercato e di territorio che possono darci la loro visione. Oggi noi andiamo ad individuare quali sono le cinque aree tematiche sulle quali poi calare le misure economiche che saranno importanti e quindi non possiamo permetterci di sbagliare. La velocità con cui usciremo dal Covid dipende dal vaccino ma le modalità con cui dopo il Covid ci sarà la ripresa economica dipendono da noi e quindi dobbiamo essere capaci di individuare quelli che sono i temi veri su cui puntare senza disperdere energie sviluppando le filiere e trasformando la nostra microimpresa in un'impresa altamente innovativa e competitiva.